Perché stiamo cominciando a cambiare abitudini e non rispondiamo più al telefono come prima? Buongiorno e benvenuti al caffettino, bentornati davanti alla macchinetta virtuale che tutti i giorni, dalle 7.30 in poi, vi fa trovare a disposizione un caffettino caldo caldo per parlare delle argomentazioni che più ci interessano, come se fossimo appunto davanti alla macchinetta del caffè in pausa. Oggi parliamo del telefono, non dello smartphone, ma di quanto in realtà abbiamo smesso di rispondere al telefono. Passi il caso del telefono fisso, effettivamente ad oggi se cambiate casa oppure siete una nuova coppia o una nuova persona all'interno di un'abitazione, non mettete più ormai il telefono fisso. Mettete la linea magari per la DSL, per la fibra ottica, vi mettono dentro anche dei numeri di telefono, ma ormai non li usate mai, lo sappiamo, usiamo il telefono di casa solamente se è già lì e riceviamo magari delle telefonate da persone che non possono utilizzare il cellulare. Ma detto questo, non si chiama più e non rispondiamo neanche più al telefono. Oggi parliamo di questo, cioè del fatto che la tendenza negli ultimi dieci anni degli smartphone ci hanno portato a non volere più rispondere. Faccio il classico caso, siamo magari, come dire, indaffarati in cose non così tanto importanti, quindi, non so, googolare, fare un po' di giro sui feed dei social, così un po' annoiati. Riceviamo una telefonata, ci entra sul cellulare la telefonata e non rispondiamo. Sia se si tratta di un numero di telefono sconosciuto, che anche se si tratta di un numero di telefono conosciuto. Gli psicologi dicono che vogliamo prendere tempo, che in realtà non vogliamo perdere tempo. Cioè quando rispondiamo al telefono, se un numero sconosciuto al 90% dei casi è spam, cioè è il call center, è quello degli investimenti pirotecnici in Sudafrica, è quella società inglese che ci vuole aiutare, è la compagnia telefonica rivale, è il gas, è la luce, insomma è spam. Per cui non rispondiamo, non abbiamo voglia di perdere tempo e talvolta installiamo quelle applicazioni appunto true caller o altre per sbarazzarci di queste noie. Dall'altra parte invece non rispondiamo neanche quando conosciamo le persone, perché non vogliamo perdere tempo e anzi il meccanismo più immediato è non rispondere, aspettare che la telefonata smetta, cioè quindi non rispondiamo, e poi magari dopo un po' scrivere un messaggio su whatsapp, ehi ciao scusa non potevo rispondere, dimmi tutto. Cosa vuol dire? Vuol dire che fondamentalmente abbiamo cercato di rimbalzare la palla nell'altro campo e abbiamo detto al nostro interlocutore che non abbiamo voglia di passare del tempo insieme. La cosa che mi stupisce è che sui social in realtà abbiamo l'esatto contrario, abbiamo voglia di avere non interazioni in diretta, quindi non chiamate, ma in realtà di ascoltare, di leggere, di vedere cose che ci dicono gli altri. Forse questa possibilità di non essere in diretta, in contatto e dare una voce, rispondere immediatamente umano umano ci de-responsabilizza da quello che potremmo o non potremmo fare, dalle risposte, dall'attenzione umana. Argomento molto interessante che mi ha stupito. Quasi quasi mi faccio una bella telefonata, adesso chiamo qualcuno dai. E con questo concludiamo la telefonata podcast di oggi, vi raccomando, pensateci bene ogni tanto quando ricevete le telefonate sul vostro cellulare. Noi ci sentiamo come sempre dalla lunedì al venerdì alle 7.30, questo è il caffettino ogni giorno, è un podcast.